Io mi chiamo Marina Tombesi, all'epoca avevo 20 anni e studiavo all'università. Io ricordo che fu un periodo molto vivace a Savona, nonostante tutto, perché la gente aveva molta paura, però aveva reagito in modo concreto. Paura sì, io ricordo che abitavo in via Don Bosco e direi nel tardo pomeriggio ho sentito un'esplosione e non era stata la prima che era stata a Savona. E quindi sono scesa e avevano messo una bomba al palazzo della provincia, che è il palazzo Nervi, quello tuttora sede del provveditorato. Poi ricordo anche l'esplosione, forse quella che aveva spaventato di più i Savonesi, perché c'era stato anche un morto in via Cicchero. E un'altra che ricordo, in via Cava, perché lì abitava una mia zia, in quella via, e quindi ero stata molto spaventata dalla cosa e mi ero subito interessata su come erano le condizioni di salute di questa mia parente. Studiavo all'epoca, ero all'università, e quindi appunto anch'io all'epoca viaggiavo avanti e indietro per andare all'università a Genova, facevo lettere, però anch'io ero abbastanza impegnata politicamente, perché facevo parte di un collettivo femminista che all'epoca era piuttosto attivo in Savona, e quindi collettivo femminista. Sì, 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 collettivo femminista aveva sede anche quello nel quartiere di Oltrele Timbro, e quindi poi anche come... Ma però ti dirò che all'epoca si partecipava anche alle manifestazioni, io ne ricordo una manifestazione grandissima in Piazza Saffi, in Piazza Saffi si partecipava anche al di là degli schieramenti politici, forse non si andava neanche con lo striscione, come invece poi più si faceva per altre manifestazioni, perché si voleva proprio dare un significato generalizzato a questa partecipazione di massa che c'era stata contro queste bombe. Io studiavo e ricordo appunto questo rumore, che si sentiva, e poi un'esplosione, e ricordo che c'erano i miei a casa, e io invece sono subito scesa a vedere cosa fosse successo. E c'erano ovviamente degli assembramenti di persone che volevano verificare cosa fosse successo. Quello che poi preoccupava era che oltre a un altraliccio, che ricordo, era stata messa un altraliccio, quella dicevi, vabbè, però il traliccio è sempre una cosa lontana da te. Quello che invece preoccupava di queste bombe era la città, era che erano a fianco a dove abitavi, a fianco a dove vivevi, e quindi chiaramente preoccupavano. Quello che io noto e che penso tutta la popolazione abbia notato, che non ci sia poi stata quella grande indagine per scoprire chi fossero davvero quelli che avevano messo queste bombe. Ecco, a Savona c'è stata anche questo tipo di reazione, perché sì, si supponeva che fossero bombe ovviamente di destra, eccetera, però poi le indagini non hanno prodotto nessun risultato, come poi si è verificato anche per altre... Però insomma la bomba di Piazza Fontana, altre bombe avevano anche innestato dei percorsi, invece queste bombe di Savona sono rimaste poi nell'ignoto.